Comprare casa a 1 euro 2024, le opportunità in Sardegna. Nel 2024 puoi acquistare case a 1 euro in Sardegna, riconosciuta per la sua bellezza naturale, offerte disponibili sia sulla costa che nell'entroterra. L'iniziativa delle case a 1 euro continua a prosperare, promuovendo la riqualificazione degli immobili rurali e il ripopolamento delle aree meno dense. In Sardegna puoi comprare una casa a 1 euro e con meno di 30.000 euro ristrutturarla completamente, un affare da cogliere subito. Per aderire al progetto devi rispettare alcune regole, come ristrutturare entro un anno e stipulare una polizza fideiussoria di 5.000 euro. Grazie per la visione!